L'istituzione dell'Osservatorio regionale sulla legalità e sulla criminalità organizzata e di stampo mafioso ha ottenuto il via libera all'unanimità dalla prima commissione consigliare. La proposta di legge e di iniziativa dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Cicala, Baldassarre, Polese, Viziello, Leggeri e sottoscritta da tutti i consiglieri passerà al vaglio del Consiglio regionale per la definitiva approvazione. L'Osservatorio è un organismo di supporto della regione basilicata in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni mafiosi e di criminalità organizzata nonché di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Tra i compiti assegnati la verifica dell'attuazione a livello regionale della normativa statale degli indirizzi del Parlamento con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali e l'analisi delle principali cause dei fenomeni di infiltrazioni malavitose del lavoro irregolare, della corruzione, dell'usura, dell'estorsione e del riciclaggio presenti nel territorio regionale. L'organismo promuove anche iniziative rivolte agli studenti e ai docenti per contribuire all'educazione, alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali riecivici.